Ciao a tutti, esiste la felicità? Questa domanda se la sono posta in molti, perché capire se esiste la felicità ci dà la possibilità quindi di perseguire la felicità e quindi cercare magari di raggiungerla, magari di ottenerla. Che risposte sono state date? Beh intanto io credo che quella più accreditata, diciamo c'è tutta una filosofia che è praticamente la filosofia dello studio della felicità è quella del buddismo. Il buddismo, Buddha Shakyamuni ha proprio questo Buddha, perché poi Buddha ce ne sono veramente tanti, Buddha è uno stato, significa illuminato, significa proprio una persona che ha raggiunto la felicità ma ha uno stato di felicità permanente. Quindi dobbiamo dire intanto la prima cosa è che la felicità è uno stato interiore, quindi uno stato interiore cosa significa? Significa che è una percezione endoscopica, non è possibile collegarla a qualcosa di esterno, non è possibile dire se tu avrai questo, questo e quest'altro sarai felice. Anzi, se la collega è esclusivamente a situazioni esterne, sicuramente non sarai felice, perché sarà una felicità temporanea. Faccio un esempio, se una persona ha un desiderio, desidera comprarsi l'auto nuova e mette da parte i soldi, insomma fa di tutto per comprarsi l'auto nuova, questo diciamo già il perseguire, questo bisogno di avere quest'auto nuova ti dà una sensazione diciamo un po' piacevole, però poi dopo metti da parte i soldi, ti compri l'auto nuova, hai il picco di felicità, se non ti capitano altre cose, diciamo adesso ci focalizziamo solo su questo, e hai il picco di felicità e poi però cosa succede? Perché dopo un mese, due mesi, tre mesi, insomma che l'auto la stai usando, stai viaggiando, eccetera, eccetera, diventa un qualcosa di normale, cioè scende, non riesce più a sostenere quel livello di felicità. E allora qua ci sono, poi vedremo diverse possibilità per riuscire a mantenere diciamo il livello di felicità un po' alto, però vedremo poi come fare nei prossimi video perché in questo canale voglio proprio parlare di come strutturare la felicità. E qual è stata la risposta di Buddha Shakyamuni? Ripeto, poi approfondirò moltissimo questi temi. Allora la prima risposta è stata che la felicità esiste, che è uno stato interiore e che corrisponde all'assenza del dolore, all'assenza della sofferenza, perché dove c'è dolore e dove c'è sofferenza non ci può essere felicità. E allora Buddha ha studiato che cos'è il dolore e che cos'è la sofferenza, perché se qualcosa non ci deve essere io devo sapere che cos'è questo qualcosa che non ci deve essere per poi toglierla. E quindi bisogna imparare e vedremo come fare nei prossimi video, ripeto in questo canale tratterò esclusivamente, no magari anche altre cose, però prevalentemente questo filone della felicità e del benessere, vedremo come fare a riconoscere il dolore e poi eliminarlo per poter finalmente essere felici. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale mi raccomando, iscrivetevi e anche agli altri miei canali se non siete ancora iscritti, vi do appuntamento al prossimo video, ciao!